Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi ragazzi O meglio, il glitch dei soldi che ancora funziona ragazzi Vi riporto questo glitch perché è ancora funzionante Però è difficile ragazzi Per fare questo glitch dovete stare in una sessione solo inviti E avere una sultan e il centro operativo ragazzi Allora, il passaggio è abbastanza difficile ragazzi Quindi, che vi dico? Non vi dico cazzate, non è facile insomma Allora, l'unica cosa che dovete fare è avvicinarvi al veicolo Premere triangolo Tenere premuto il tasto option Rilasciare acceleratore e tasto option Questo è l'unico passaggio che dovete fare Come vedete neanche a me riesce Sempre insomma Non mi riesce tanto bene Anche perché è un glitch Molto 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 difficile Non è come il glitch che c'era ieri E quindi Dovete avere un po' di pazienza Dovete avere questa schermata In pratica Quando il glitch vi riesce Dovete avere questa schermata Se il glitch ha funzionato bene Vi troverete la duplicazione dentro Se non ha funzionato ragazzi Dovete ripetere il glitch ovviamente Quindi Triangolo per salire Premete il tasto option Mentre state salendo Acceleratore E rilasciate il tasto option Niente di semplice Ma neanche tanto difficile Insomma ragazzi Se Come ho già detto Se il glitch va come deve andare Avrete la schermata Sarete fuori dal centro creativo E avrete dentro il clone Come in questo caso ragazzi Giustamente Sapete tutti Che per fare i glitch Ci vuole un po' di pazienza Quindi Ragazzi Non ve la prendete con me Però Questo è l'unico glitch Funzionante al momento Ne sto provando un altro Per PS4 O meglio Sto tentando di portarlo Su PS4 Perché lo hanno portato Su Xbox One Ma non Non riesco a farlo funzionare Su PS4 In nessuna maniera E quindi Tenterò Tenterò ancora Intanto Chi può Approfitti Faccia questo glitch Se ha bisogno di soldi Altrimenti Aspettate ragazzi Allora Una volta che avete fatto La duplicazione Il passaggio è sempre Quello di sempre Dovete comprare L'officina Dovete comprare Cazzi e mazzi Insomma E una volta che avete fatto questo Avete il glitch in mano Diciamo No? Avete la duplicazione Bella e pronta Ragazzi Questo purtroppo Come ho già detto È un glitch Che molti di voi Hanno trovato difficoltà Nel farlo Anche io Ho trovato Grandi difficoltà Nel fare questo glitch Perché non sempre Mi riesce Però provandolo Ho visto Che è ancora funzionante Questo è l'unico Glitch Per PS4 Ancora funzionante Ieri sono stati I pacciati Tutti quanti Glitch Che c'erano Tutti quelli Che funzionavano Quindi Automaticamente Ho voluto portare Questo Anche se so Che alcuni di voi Si lamenteranno Quindi Quando avete L'auto Dentro il centro operativo Ragazzi L'unica cosa Che dovete fare È fare un cambio Tag Però Prima di fare ciò Andate Nel vostro garage E portate fuori Una LG E dopo farete Il cambio targa Come in tutti i glitch Che ci sono stati Finora Con il centro operativo O meglio Quelli che Si duplicava L'auto Nel centro operativo Hanno tutti La stessa metodologia Ragazzi Quindi Non scendete Dalle nuvole Non Non mai continuate A fare domande Del tipo Ma dopo Che devo fare Che dovete fare Ragazzi Cioè Non fate I novellini Come se non sapesse Come se fa un glitch Il glitch È sempre quello Una volta che avete Duplicato L'auto Dentro al centro operativo Dovete ripetere Gli stessi passaggi Dei glitch Che ho portato ieri Del glitch Che c'era in precedenza L'unico cambiamento È questo Portare fuori Una LG Andare nel centro operativo Come sto facendo io Cambiare la targa E il gioco è fatto Ragazzi Che poi Alla fine Anche negli altri glitch Questo passaggio C'era sempre Quindi Voglio dire Ragazzi È Né facile Né difficile Sta a voi Fare il glitch Per quelli Che mi chiederanno Eh ma ci rimetto L'officina Devo comprare L'officina Ragazzi La comprate Solamente una volta Non è che per fare Ogni duplicazione Insomma Dovete comprare L'officina Quindi evitate Di fare sta domanda Stupida Perché sembra Che veramente Scendete dalla montagna Del sapone Con la saponetta Sotto al culo Che Pare che Avete cominciato oggi A fare i glitch Io posso capire Chi comincia oggi Perfetto Ma Chi comunque Ha sempre fatto questi glitch Sa benissimo Come funziona il glitch Per quelli che Hanno cominciato oggi Il video È abbastanza elementare Insomma Se capisce da solo Se commenta da solo Ragazzi L'importante È che riuscite a fare Il primo passaggio Quello che ho fatto io Quello di portare Eh Diciamo Di duplicare Più che altro L'auto Dentro il centro operativo Una volta che avete Duplicato l'auto Dentro il centro operativo L'unico passaggio Che dovrete fare È comprare l'officina La comprerete Solo una volta Duplicherete 10 20 30 50 macchine Tutte le macchine Che volete Quando avete finito Eh Ricomprate Il deposito veicolo Se volete Oppure lasciate l'officina Insomma L'auto ragazzi Se vi si bagga Dentro il centro operativo Eh Non è un problema Basterà chiudere L'applicazione E tornerà Tutto come prima Ovviamente Comprate Prima di chiudere L'applicazione O anche dopo E uguale Comprate il Il deposito veicolo E l'auto Resterà nel vostro Deposito veicolo Non la perderete Quindi detto questo Ragazzi Approfittate per il momento Io intanto Sto lavorando Sull'altro glitch Spero di riuscire A portarlo Un saluto a tutti Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti